Ragazzi, scusatemi se questa volta, diversamente dal solito, parto in maniera molto più seriosa. Mi sono reso conto che per avere una comunicazione efficace bisogna conoscersi meglio. Sicuramente ragazzi, alcuni di voi purtroppo non li conosco come vorrei. Quindi mi trovo nella condizione, perdonatemi, di farvi una domanda molto profonda. Posso conoscervi meglio? No comment, no comment. L'unica cosa che vi posso chiedere è, siate clementi nei commenti. Tutto lì ragazzi, non vi chiedo altro. Però obiettivamente, adesso state obiettivi, quando uno vi viene a presentare un software come questo, WinX HD Videoconverter, che è un software che immagino che molti di voi già conosceranno, è un software conosciutissimo, la pietra miliare dei software di questo tipo, è quasi come venirvi a trasmettere qualcosa di proprio, di personale. Non vi ho convinto. Vedete come siete? Siete maliziosi, lo vedete che siete maliziosi? Ma è la verità ragazzi, è la verità. Questo è un software che mai come oggi, obiettivamente, siate onesti, chi è che non utilizza una fotocamera, una videocamera, eventualmente un drone, che non faccia filmati per un proprio piacere personale, o che per esempio non li utilizzi, come nel nostro caso, per YouTube? Ragazzi, chiunque fa un'operazione di questo tipo. E realmente, qual è il problema più grande? Il fatto della conversione, il fatto dell'adattamento di questi formati, questi video in 4K eccessivamente pesanti, che devono essere compressi, magari mantenendo una qualità di un certo livello. Chi meglio di WinX HD Videoconverter vi può fare un'operazione del genere fatta come si deve? Anni, anni, anni di esperienza. Questa è la verità ragazzi. Ecco perché diventa un qualcosa di personale. Questo è il classico coltellino svizzero, specialmente in questi momenti, da avere sempre con sé. Non vi voglio fare il solito video dove ci sono elogi ragazzi, perché tanto questo software non ha bisogno di elogi. Ce li ha già di per sé, lo conoscete benissimo. Andiamo velocissimamente sul sito della DJ Art, dove appunto viene presentato WinX HD Videoconverter, che vi voglio far vedere due o tre punti. Ma poi passiamo alle classiche operazioni pratiche, che sono quelle che vi interessano, quelle che fanno, come si può dire, venire la collina in bocca e vi fanno capire effettivamente il grosso vantaggio di avere sempre a portata di mano un software di questo tipo. Quindi passiamo di qua ragazzi. Questo è il sito della DJ Art che ci ha permesso di sponsorizzare appunto questo software e come vedete ottiene WinX HD Videoconverter gratis. Ragazzi, precisiamo sempre una cosa. Ricordatevi che pur utilizzando la maggior parte delle funzioni nella versione gratuita, voi ricordatevi sempre che questo è un software, adesso ci arriviamo, che comunque è a pagamento. Vi consente nella versione gratuita di fare i famosi 5 minuti di compressione e di conversione. Ok ragazzi? Quindi lo potete testare tranquillamente, ma se volete tutte le funzionalità e il tempo senza limite, dovete passare alla versione quella a pagamento. A proposito di questo ragazzi, molto molto importante, ricordatevi che la DJ Arti, la casa che appunto produce WinX HD Videoconverter, fa continuamente delle offerte eccezionali. Io adesso nella descrizione vi metterò un link che presenta, se non sbaglio è valido una settimana, un'offerta ragazzi veramente veramente da leccarsi i baffi ragazzi, quindi cliccate eventualmente sul link, ma vi consiglio di tenere sempre l'occhio all'eventuale link o al sito appunto di WinX HD Videoconverter della DJ Arti, perché loro spesso fanno delle offerte veramente ottime, quindi fate attenzione, segnatevelo perché alcune volte veramente ragazzi sono quelle classiche cose da prendere al volo, fidatevi. Allora questo è il sito ragazzi, dove potete comunque scaricare per una demo WinX HD Videoconverter. Non a caso è il miglior convertitore video per Windows, considerate loro mettono 10, ma vi posso assicurare che l'ho provato anche sull'11. facile da installare, semplice ma potente, converte in ogni formato ragazzi, questo è una delle cose dove WinX HD Videoconverter non ha limiti, praticamente ha tutti i possibili, ve l'ho già fatto vedere in WinX DVD Reaper, il software che vi ho presentato qualche tempo fa, praticamente non ha limiti sui formati ragazzi, come per esempio un'altra cosa bellissima, è che ha la possibilità di convertire in tutti i dispositivi, lo vedete ragazzi? Cioè filmati che possono essere convertiti per iPhone, per iPad, per tablet, per cellulari, per Android, Xbox, ragazzi non ha limiti, questo è uno dei grossi vantaggi di WinX HD Videoconverter. Guardate ragazzi, questo è molto importante, supporto online 4K HD, scarico converti in 4K Full HD 1080, questo lo potete fare anche online, ma vi dico subito che il software logicamente ve lo permette. Qui voglio fare un piccolo appunto ragazzi, ve lo dico molto attentamente, perché ho guardato altri tutorial, altri video su questo software, dove alcuni utenti, alcuni iscritti, alcuni amici di altri video, si lamentavano perché avevano inteso il fatto di poter convertire dal Full HD in 4K, come se la cosa fosse una sorta di miracolo. Ragazzi, ad onor del vero e per giustizia, ricordatevi che è sì vero che si può trasformare un video da Full HD in 4K, ma il 4K che otterrete in questo caso sarà un 4K fittizio ragazzi. Voi in pratica andrete a modificare un formato 1920x1080 Full HD in un formato 4K, ma la qualità insida nel Full HD rimarrà tale ragazzi, non è che potete aumentare la qualità della registrazione che è stata effettuata tra virgolette in una risoluzione minore. Ci siete ragazzi? Questo è molto molto importante, quindi sì, si può fare la trasformazione da Full HD in 4K, ma non andate a aumentare la qualità, solo il formato. Cosa ben diversa è, se voi avete, ed è molto molto importante, praticamente indispensabile, un formato in 4K, che eventualmente vogliate riportarlo in un formato minore, quindi più leggero, più pratico, tipo il Full HD. In quel caso la vostra prima preoccupazione sarà quella di mantenere la qualità, del 4K. Ecco, è qui che escono fuori tutte le qualità di un software di questo tipo ragazzi. Io a quel punto prendo un formato 4K, lo porto in Full HD, ottengo un formato molto più compresso, molto ridotto, molto più comodo, ma con una qualità, grazie a questo software, veramente eccezionale. Questa ve la dovevo precisare, ok? Allora, come vedete, permette di fare dei video più piccoli per il PC e per il web, voi sapete, ha tutta la possibilità di fare tutte le conversioni, comunque come dice, vedete, senza perdita di qualità. Qualità dell'output migliorata, c'è una funzione che adesso vediamo, che è appunto abilitare il motore di alta qualità, che oltre già ad essere di per sé un ottimo software di conversione, abilitando questa opzione, aumentate ulteriormente la qualità di conversione. Ragazzi, ve l'ho già fatto vedere certe cose, ma è veramente spettacolare questo software. Conversione super veloce, grazie al suo motore che utilizza appunto la CPU, o eventualmente la GPU, voi avrete una conversione in un tempo molto più veloce. Possiamo modificare i video come preferisci, nel senso che all'interno del software, lo vediamo, esiste il taglio, il ritaglio, l'aggiunta di sottotitoli, tutto all'interno di questo software. Operazioni che noi facciamo tutti i giorni, ragazzi, tutti i giorni. Personalizza il tuo progetto, questo convertitore ti aiuta anche a migliorare i video, modificando codec, fps, proporzione, risoluzione. Ragazzi, questa è la cosa più importante, perché non solo effettiamo una conversione, ma possiamo fare, come possiamo dire, una compressione reale, mantenendo una certa qualità, e permettendoci di avere un video, che a quel punto diventa, passatemelo, trasportabile, inviabile, utilizzabile su altri formati, che ad oggi è veramente la cosa più importante. Finiamo la presentazione, e andiamoci a vedere, tutta, tre, quattro, cinque esempi pratici, veramente, da colina in butta. Pratica, pratica, questa è la cosa che vi interessa, lo so ragazzi, passiamo di qua. Allora, ecco qui la finestra, di Winix HD Videoconverter. Ragazzi, è inutile che mi vada a spiegare un'altra volta l'interfaccia, perché, come vedete, è molto simile, nel video che vi ho fatto, di Winix DVD Ripper, quindi lì vi spiego, molto molto bene, adesso comunque vi metto il link qua sopra, lì vi spiego molto bene questa interfaccia. L'unica differenza, la vedete qua in alto ragazzi, dove vedete appunto, i pulsanti, video, url, e fotografia, questa è la differenza. E c'è una piccola differenza, vi faccio uno zoom, anche qua, dove, a parte utilizzare motori di alta qualità, che era presente anche in Winix, di Woody Ripper, qui avete, fusione e copia automatica. la fusione, è nel caso in cui, voi vogliate, abbiate anzi, più clip inserite, e vogliate che queste clip, alla fine, escono fuori come una sola clip, quindi lui fa, detto in gergo informatico, il merge, quindi, praticamente, va a unire queste clip, in una sola clip, o eventualmente, la copia automatica ragazzi, che è veramente una cosa ottima, perché nel caso in cui, voi vogliate fare, un formato, un video per comprimerlo, ma abbia lo stesso codec, se voi utilizzate copia automatica, materialmente, non avviene, non avviene una trascodifica, cioè, materialmente, non si va a comprimere, e poi a codificare il video, ma materialmente, il tutto avviene, senza nessun doppio passaggio, e quindi, senza nessunissima perdita, di qualità, e questo ragazzi, vi fa solo capire, la qualità di questo software, guardate ragazzi, che cosa ho fatto io, per farvi vedere, gli esempi di video, url e fotografia, mi sono già preparato, appunto, dei demo, dei video, proprio per farvi questo esempio, e sono andato, a prendermi, andiamo qua dentro, la mia directory video, sono andato a prendermi, per esempio, guardate, questo video, che ho ottenuto, da uno di quei siti, dove appunto, si può scaricare gratuitamente, che è un video in 4k, chiamato Lemon, se io ci passo sopra, vedete ragazzi, guardate, vedete, fate attenzione alla dimensione, 90,4 mega, lo vedete, è un video, che dura pochissimo ragazzi, meno di un minuto, l'ho fatto per farvi gli esempi, ed è un file mp4, ci siete ragazzi, ricordatevi, 90,4 mega, questo video adesso ragazzi, io ve lo vado a lanciare, guardate, fate molta attenzione, guardate, la definizione di questo video, guardate le bollicine in basso, verso la parte nera, guardate come, come si muovono le bollicine, nella parte centrale del limone, guardate come si alzano, come vanno verso l'alto del bicchiere, quindi fate molta attenzione a questa definizione, l'avete vista ragazzi? Bene, andiamo a chiudere questo video, e chiudiamo qua, entriamo all'interno, del Winix HD videoconverter, la cosa che ci interessa di più ragazzi, la cosa che più ci può preoccupare, qual è? Che avendo un video molto pesante, lo abbiamo detto, in 4K, noi potremmo aver bisogno, per esempio, di darlo a un amico, mandarlo, doverlo trasmettere, e quindi una pesantezza, di quel livello, che voi sapete, arrivano anche oltre 10 giga, dipende dalla lunghezza, i video di 4K, dovremmo cercare di comprimerlo, ma assolutamente, cercando di far rimanere una qualità, che sia più che decente, giusto? Questo è uno dei nostri problemi principali, in questi tempi, ci siamo? Quindi, andiamo a prendere video qua ragazzi, clicchiamo su video, potremmo anche cliccare qua, al centro direttamente, è la stessa identica cosa, clicchiamo su video, e ci andiamo a cliccare, a prendere, vedete, selezioniamo le Emon, e facciamo apri, automaticamente si aprirà la finestra, che già abbiamo visto, i Winix HD, scusate, i Winix di Woody Ripper, dove qua a destra, potremmo scegliere tutti i vari formati, addirittura i formati specifici, per dispositivi tipo Apple, Android, PC comuni, ma andatevi a vedere, i Winix di Woody Ripper, e potremmo scegliere, a questo momento, io qua sono dei formati che ho già provato, ma andiamo su profili generali, abbiamo tutti i profili, che possiamo scegliere, compreso il 4K MP4 video, o quello normalmente consigliato, che è l'MP4 video, che mantiene una buona qualità, e anche l'audio AAC, ve l'ho già spiegata questa cosa, ricordatevi, che tramite questo pulsante, che vedete qui ragazzi, dove c'è scritto appunto, vedete, LQ, e AQ, che quindi sarebbe, low quality, e high quality, che praticamente potete, o abbassare leggermente, l'effetto della conversione, aumentare la qualità, dell'effetto conversione, ci siete ragazzi, io al momento lo lascio in media, non faccio assolutamente, nessuna modifica particolare, e vado ad accettare, questa conversione, in MP4, ci siete, quindi non vado automaticamente, a modificare nulla, mantengo, la qualità, di 4K, del video, che siamo andati a prendere, quindi farò ok, automaticamente, qui andiamo a fare uno zoom, perché è fondamentale questo, voi potete vedere, che questo video, guardate sopra, se mi sposto diventa grigio, non lo vedete, guardate sopra il mio mouse, 3840x2160, che sapete che è, la risoluzione appunto, 4K, ci siamo ragazzi, ricordatevi anche un'altra cosa, che non vi ho fatto vedere l'altra volta, se io vado a cliccare su editare, io andrò a modificare il video, adesso ve lo faccio vedere, ma lo vediamo nella seconda, nel secondo esempio, che è una cosa che invece, è molto interessante, allora ragazzi, io lascio esattamente così com'è, a questo punto, senza toccare nulla, semplicemente avendo selezionato, il formato mp4, io vado a fare run, vi dico subito ragazzi, che per evitare, la lungaggine del video, ho già preparato la conversione, me li sono già dove, preparati dove appunto, HD Video Converter, li andrà a salvare, quindi, se io faccio run, parte questa conversione, e andiamo a, trovarla, dentro la directory, che è questa ragazzi, Winix Video, dove andrà a salvare tutti i vari formati, come vedete, ho già fatto le due prove, ne vedete uno e due, ma guardate una cosa importante ragazzi, io qui ho fatto, questa conversione, e guardate un po', file mp4, riuscite a leggere la dimensione, 27,2 mega, da 90 mega, cioè ragazzi, l'abbiamo ridotto, oltre un terzo, ci siete? Fate attenzione a questo, ma il problema è, che qualità posso avere ottenuto, a 27,2 mega, ve lo lancio, ragazzi, io non dico nulla, cioè guardatelo voi, ve lo ricordate, voi potete tornare indietro con il video, andatevi a guardare, il video intero in 4k, nel formato 3860 e via dicendo, e il formato adesso, che è stata fatta una compressione, quindi mantenendo comunque, il 4k come formato, ma mettendo una compressione, che ci riduce la pesantezza, che è una delle cose, che sicuramente vogliamo, guardate la qualità ragazzi, ditemi voi, io non dico nulla, ci siamo? Aspettate, non è finito, noi potremmo non essere soddisfatti, dei nostri 27,2 mega, che ho ottenuti, ci siamo? Guardate che cosa possiamo fare ragazzi, noi possiamo prendere questo video, che abbiamo, non l'ho toccato ragazzi, esattamente quello, che avevamo mezzo secondo fa, eventualmente andare su editare, perché dico questo? Perché se io vado, a cliccare su editare ragazzi, da qui, guardate, fate molta attenzione, io posso regolare l'audio del volume, posso aumentarlo, diminuirlo, o lasciarlo tale logicamente, posso inserire, come vi ho fatto vedere già, nei Winix di Woody Ripper, dei sottotitoli, ma cosa che non vi ho fatto vedere l'altra volta, io posso andare a fare, per esempio, dei ritagli su questo video, basta andare qua, guardate ragazzi, in Abilita ritaglio, e cliccare, guardate che cosa succede, mi appaiono, io posso andare a modificarli, posso intervenire, posso andare a modificare, direttamente il formato del video, quindi ridurlo, e di conseguenza, diminuire la pesantezza del video, bravi, avete capito bene, o addirittura inserirle, vedete che io qui ho, 3840x1736, mi viene proposto, ma io potrei andare a inserire, manualmente, il mio formato, quindi, abbassare, il formato video, e quindi ridurre la pesantezza del video, ci siete? non solo, ma sempre da qui, noi possiamo andare a tagliare, se io faccio, Abilita il trim, quindi, faccio nella fattispecie, questo ragazzo, ragazzi, vado ad attivare il trim, io, come potete vedere, mi vengono, questi due tastini, che io posso stringere, andandoci sopra, diminuendo eventualmente, le parti meno interessanti, direttamente da qui, non devo utilizzare un altro programma, ci siamo? e questo ve l'ho detto, ve l'avevo fatto vedere, e ve lo faccio vedere, ma qui, andiamo a fare, annulla, chiudiamo, non ci interessa, dove andiamo noi ragazzi? ve l'ho fatto vedere, andiamo qua sopra, ragazzi, guardate, leviamo questo di Windows, andiamo qua sopra, sulla rotella dentata, che è quella appunto, che gestisce, le opzioni del formato, che per il momento è 3840x2160, lo vedete? bene, entriamo qua dentro, a me, a voi, la dimensione che avevamo ottenuto, la 27, non ci stava bene, era comunque troppo pesante, cosa possiamo fare qua ragazzi? guardate, fate molta attenzione, vedete che qui, in tutto il formato video, lui mi dice, mantieni l'originale, mantieni l'originale, e mi mette un formato audio a AC, ma io posso non voler mantenere il formato originale, che in questo caso è un formato 4K, ci siete? io posso cliccare su mantenere l'originale, o personalizzarlo con dei miei valori, e andare a scegliere, per esempio, 1920x1080, che è il formato full HD, ci siamo ragazzi? 1920x1080, e faccio ok, va bene? via! una volta che ho fatto ok ragazzi, usciamo, lui logicamente mi creerà questo MP4, nel formato full HD, non più nel formato 4K, io semplicemente dovrò andare a fare run, per non farvi perdere tempo, ho preparato anche questo, e quindi ci siamo andati a trovare, rientriamo qui nella directory, il secondo test che sono andato a fare, che è questo, ma ve lo devo far vedere da vicino, guardate che cosa succede in full HD, guardate la dimensione, 12,3 MB ragazzi, qui avevamo, guardate, 27,2, cioè voi capite che abbiamo compresso a 12,3 MB, ma il dubbio viene spontaneo, giusto? La domanda nasce spontanea, farà schifo? Ve lo faccio partire, faccio un doppio clic in questo momento, questo è quello che abbiamo ottenuto in full HD ragazzi, vi devo dire qualcosa? Avete la possibilità di scaricare quello gratuito, fate le varie prove, e vedete se vi sto facendo carta vince, carta perde, io sono letteralmente rimasto a bocca aperta, questa è la soluzione full HD, cioè a occhio nudo ragazzi, è quasi impossibile riconoscere, ma andiamo avanti, la cosa non finisce qua, che cosa ho fatto oltretutto? Guardate qui, riapriamo questa directory, questo andiamola a cancellare, spingendo il cestino, cosa può succedere ragazzi? Che per esempio, come potrete vedere, io qui in video, ho anche messo, come vi ho fatto vedere prima, andiamo a fare uno zoom, il video di Winix, di Woody Ripper, che ho fatto e che ho presentato a voi sul canale, guardate il formato, guardate la pesantezza, MP4, 3,13 gigabyte, 3,13 gigabyte, ok ragazzi? Il formato, se io vado a lanciare il video, eccolo qua, lo conoscete, non legge più, lo vedete? Non mi scrive più, l'unico caso dove Winix di Woody Ripper non riesce a fare un miracolo. Ragazzi, questo era il video che avete visto sul canale, ci siamo, 3,13 gigabyte, ritorniamo qui, e andiamo a prendere video ragazzi, a questo punto ci andiamo a prendere il mio, da eccolo qua, 3,13 gigabyte, lo selezioniamo e facciamo aprire. Io voglio semplicemente una conversione, come viene raccomandata, in MP4, con il formato AC, perché voglio mantenere una qualità più che buona, ma voglio abbassare molto la pesantezza. lascio MP4 video, faccio ok, ok? E qui vado semplicemente a fare run. Cosa otteniamo ragazzi? Otteniamo questo, che è la modifica che io ho già fatto, ritorniamo qua su Winix video, e andiamo, eccolo qua, il filmato sul quale ho già fatto questa conversione. Mi posiziono sopra, 496 megabyte, 3,13, 496 mega, vi devo spiegare le differenze, ma abbiamo detto prima, 496 megabyte non si potrà vedere, e io lo lancio, non legge più, non mi scrive più, mi ha... un miracolo. Ragazzi, io ho messo, non a caso, come vedete, questo contorno, perché prima, vi devo dire qualche cosa ragazzi? Penso che non ci sia, non ci sia veramente bisogno di parole. Questo è quello che riusciamo a ottenere per una conversione, per una compressione, ma soprattutto, avete visto, cioè arriviamo addirittura al 30, al 60, al 90% di compressione con una qualità ragazzi, veramente incredibile. Non vi dico altro, perché i fatti parlano da soli, ma che vedete qua? Url. Andiamoci a vedere che cosa fa Url, perché non basta quello che vi ho fatto vedere. Url. Giustamente, andiamo a vedere Url, ragazzi. che cosa fa questo Url, ragazzi? Non basta già le funzionalità che ci danno e i vantaggi che abbiamo, giusto? Non ci bastano, perché noi siamo pretenziosi. Che cosa ho fatto? Per evitare problemi di copyright, e via dicendo, io mi sono andato a preparare un link, che come vedete qua, mi riporta sul sito di Odyssey, che è praticamente una piattaforma, dove appunto vengono depositati i video, adesso sto facendo copia, dove vengono depositati i video, in forma gratuita open source, e vado ad aprire questo Url, ok? Prima di aprire Url, però, vado su Google, vado a inserire qua, il link che ho appena copiato, che facendo invio, ci riporterà esattamente sul video, di, come vedete, Odyssey, ed ecco qua, ragazzi, lo vedete? Quindi identifica come video, una Ture 4K, in realtà vedrete che poi il video viene scaricato, in full hd, ma non 20 per l'80, ma comunque guardate la qualità, non fate caso all'acqua che scorre leggermente rallentata, perché questo è un problema, della trasmissione NDI da un computer all'altro, io su questo computer lo vedo tranquillamente in maniera molto fluida, voi vedete questo leggerissimo rallentamento a causa dell'NDI, ma guardate la qualità del video, ci siamo ragazzi? Andiamola a chiudere, a questo punto andiamo ad aprire Url, semplicemente, semplicemente, andiamo ad incollare, vedete facciamo, incolla e analizza, io già l'ho incollato, quindi vado semplicemente ad analizzare, aspettiamo qualche secondo, e come potete vedere, vi faccio uno zoom in modo che lo vedete bene, praticamente la funzione Url mi ha già, ho sbagliato, mi dà già il video che è stato analizzato, vedete? 4K682, free nature scene video, 1920x1080, che come vi dicevo, in risoluzione full hd, e pesa 34,56 megabyte, a questo punto non dobbiamo fare altro, che fare ok, e ci viene immediatamente proposto, qui nella solita finestra, non dobbiamo fare nient'altro, semplicemente andiamo a fare run, run in pochi secondi, vi andrà a scaricare questo video, come al solito, per evitarvi tempi, miungaggini inutili, l'ho come potete aver visto già precedentemente, messo il video che ho solo andato a scaricare, eccolo qua ragazzi, ve lo lancio, questo è quello che ottenete, utilizzando questo metodo di spiegamento, ragazzi attenzione, perché io non a caso ho utilizzato Odyssey, l'ho fatto apposta, perché come sapete, è una piattaforma pensore, per esempio YouTube non permette, quindi io non ve l'ho fatto vedere, per quel motivo, perché YouTube per esempio, non vuole che vengano scaricati, i propri video, per esempio Odyssey, essendo una piattaforma gratuita, sì, guardate che cosa si è venuto, ad ottenere, e questo, andiamo a chiudere, è un altro esempio, di qualcosa che, già di per sé, giustificherebbe, abbondantemente, l'acquisto di un prodotto del genere, viste le funzionalità, ma non contenta la DJ Art, che cosa ha fatto ragazzi, è andato a mettere anche, quassù, ve lo faccio vedere bene, la funzione, l'opzione fotografia, cosa va a fare, la funzione fotografia ragazzi, praticamente, guardate, facciamo prima a cliccare, io ci clicco sopra, e lui mi chiede, giustamente, una cartella, dove io avrò raccolto, le mie foto, sulle quali voglio creare, un filmato, sì, avete capito bene, un filmato, con tanto di, transizioni, voi sapete che esistono programmi a pagamento, a parte, per fare una cosa del genere, qui ce lo avete, all'interno del programma ragazzi, ci siete? Quindi, io ho già preparato, giustamente, delle foto, che ho messo in immagini, ho preso le foto, di Polliv, ormai credo lo sappiate, che è il mio paperone, che appunto, questo adesso non lo vedete, perché giustamente adesso, vi sta andando in acquisizione, ma io, seleziono la cartella, che ha contenuto le immagini, e faccio, seleziona cartella, automaticamente, lui mi chiederà, in che formato lo vuoi? Il formato MP4 video, voi potete scegliere, tutti i formati che, che volete, ma il formato MP4 video, in AC come audio, è sicuramente, un formato ottimo, perché ha AC audio, vi ho precisato, guardate, ho parlato dell'audio, perché? Allora, io seleziono questo formato, mi sta più che bene, e faccio, ok, guardate, vedete, è già apparso, la raccolta delle foto, che io sono andato a inserire, ci siamo? Se io vado a fare, guardate ragazzi, editare, vedete che appaiono tutte le foto in sequenza, ma guardate qua sotto, che cosa c'è ragazzi, aggiungi musica, lo vedete? Aggiungi musica, guardate che cosa fa, se io vado a fare aggiungi musica, mi sono già preso, una musica appunto, da YouTube, quelle gratuite, vado semplicemente a selezionarla, e faccio apri, automaticamente, come vedete, mi viene posizionata all'interno, guardate che posso fare, guardate qui ragazzi, è molto importante, vedete, la posizione delle foto, le posso avere, ASC, in formato crescente, o DSC, le inverto, le faccio, gli faccio fare una, diciamo, una riproduzione in formato decrescente, a secondo del nome delle, ma posso anche selezionare, che tipo di intervallo voglio, se le voglio per nome della foto, se le voglio per grandezza, posso fare quello che voglio, ma guardate che cosa c'è qua, calcolo automatico, perché vedete che il video dura un minuto e cinquantanove, e la musica dura due minuti e quattordici, guardate, se io faccio calcolo automatico, guardate che cos'è ragazzi, vedete che mi si è recuperato la durata del video, due e quattordici, con quella della musica, due e quattordici, ok? Che cosa abbiamo ottenuto? Praticamente un filmato, che finisce esattamente quando finisce la musica, e scusate se è poco, io a questo punto vado a chiudere, tanto ho fatto le modifiche, e semplicemente vado a fare run, né più né meno ragazzi, non avete fatto nulla, vi evito tutto, la maradana, che comunque è durato, vi assicuro, roba di nemmeno un minuto ragazzi, veramente impressionante, impressionante, rientriamo nella cartella dove vengono salvati, eccolo qua, quello che mi si è creato, ve lo lancio. Ragazzi, c'è bisogno di parole? Cioè, vi devo dire qualche cosa? Io penso che a questo punto, una volta che vi ho fatto vedere questi esempi pratici, vi avrei potuto spiegare tutto lo spiegabile, ma il programma è così semplice, funzionale, intuitivo, che veramente, vista oltretutto la vostra preparazione, ma anche chi eventualmente non abbia questa preparazione, è di una semplicità tale, che veramente ragazzi, chiunque, dico chiunque, fatti salvi questi esempi, che sicuramente vi hanno dato la classica dritta, la famosa lampadina, cioè veramente non al limite, io questo software ragazzi lo utilizzo, un giorno sì, e l'altro pure. Perché la realtà è questa, oggi come oggi ragazzi, un software del genere, è indispensabile. Punto. Non c'è altro modo di definirlo. Questo è il video, questa è la presentazione, spero che vi sia piaciuta, e lo utilizziate come lo sto utilizzando io, perché ragazzi, veramente è incredibile. Ripeto, non perché mi hanno chiesto una sponsorizzazione, non perché mi abbiano chiesto questa sponsorizzazione, ma perché il software veramente vale, quello che vale. Ho preferito farvi vedere le cose pratiche, perché veramente quelle, sono quelle che vi fanno la differenza. Vi siete ragazzi? E mi raccomando, non dimenticate la cosa fondamentale, la domanda profonda. Posso conoscervi meglio? L'ho anche ripetuta, sono vergognoso. Buona serata a tutti ragazzi, un grandissimo abbraccio, e un grandissimo grazie, al prossimo video. Arrivederci.